ebbene sì siamo tornati su geometry dash come nella volta scorsa che ho fatto il bonus veramente questa sarà difficile perché ieri non posso immaginare quanto sclererò adesso eppure iniziamo bene comunque no ragazzi adesso sto al bagno gioco bene meglio ogni volta che sto al bagno in gioco meglio poi sulla switch provinto che siamo verso 2 sempre quando stavo il bagno non è vero non è vero no no non è vero io continuo a non crederci eh eh vabbè se voglio se non riesco a far due metri ci credo adesso non parlo dove sto concentrato eh da adesso non parlo più da adesso non parlo più oh capito oh si e no possiamo fare un altro livello grazie eh iniziamo bene no vabbè no no cos'è cioè sembrava l'ultraistinto sembrava l'ultraistinto contro uno scarso ma no raga sembrava tipo l'ultraistinto che mi dava qualcuno eh no ci provo eh comunque ci riprovo perchè trovo più chiusi eh trovo adesso più chiusi eh trovo adesso più chiusi oh raga oh raga no raga sono andato troppo bene poi sono morto nello stesso punto in cui ero morto l'altra volta mi sa eh vabbè mi sa così perchè non lo so però mi sa che era quello appunto vabbè di nuovo ho chiusi perchè sono arrivato lì e sarà un miragolo nooo però ogni stanta volta perchè ci deve stare la pubblicità di film ok chiusi e per chi ma perchè per chi per chi per chi per chi per chi No, sono morto nello stesso botto di prima. Allora ragazzi, adesso sto concentratissimo, non parlerò finché e almeno superò il record. Porca vaca! No, ma questo video durerà un'eternità per finire questo livello. No! 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 No!